Io stavo dicendo a Fabiano, quindi se vogliamo si puoi dare, Koulibaly è grande, ma Koulibaly non aveva di Kim, Kim è un robot, Koulibaly è un giocatore forte, più forte sul piano delle qualità in generale, ma l'applicazione, l'attenzione, la difesa della porta, che a Kim non ce l'ha mai Koulibaly, assolutamente sì, oggi sì, Koulibaly non ha fatto il primo anno, ha fatto perché aveva la testa altrove, questa è una testa, la va sempre là, perché ha più motivazioni, ha più voglia di fare, assolutamente, Scommettiamo una cena da qua, ma basta andare a guardare quello che è stato Koulibaly, le partite, le partite, se li devi prendere, allora vai a guardare le partite, ma se vai a guardare le partite, allora guarda anche quante volte all'inizio Kim perdeva l'uomo, perde l'uomo in aria, tantissime volte, io guardo solo quello, guardo solo il livello difensivo, Kim è stato, l'applicato più di tutti, ma per me non è come dici tu, no perché Kim è stato il miglior difensore, se mi dici, se mi dici, fammi parlare un attimo, se mi dici, quando è arrivato Koulibaly e quando è arrivato Kim, allora ti posso dire, sì forse tra i due, giovani appena arrivati, secondo me Kim, devi vedere oltre Fabiano, se vedi oltre mi dici adesso, Kim va oltre Koulibaly, perché è uno che non sbaglia una partita, Kim potrà andare oltre, adesso non va oltre, ci va già, ci va già, assolutamente no. Quindi 26 anni, non giovanissimo e neanche vecchio, Francesco vuole fare l'arbitro di questa contesa? Sì, io proprio la faccio semplice.